Ciao amori miei! Allora, sempre siamo al primo di febbraio 2021 e vi faccio questo brevissimo video, è il secondo della giornata, perché vi volevo dire una cosa stellare. L'altro giorno, ieri, vi ho fatto il video dalla vostra giostra preferita del Parco del Cittadino. Tra l'altro, voi l'avete sempre chiamato il Parco di Via del Cittadino, e ieri cercavo come si chiama questo parco. In effetti sembrerebbe che un nome non ce l'abbia, o quantomeno, forse io, magari ho cercato male, però non sono riuscito a trovarlo. Anche lì al parco ho cercato se c'era scritto qualcosa, non c'era niente. Al che cosa ho pensato? Ho fatto la richiesta a Google, a Google Map. Io ho chiesto, dal momento che, almeno, quantomeno per Google, non esistendoci un nome, se per favore Google potesse chiamarlo Parco Via del Cittadino, così come lo avete soprannominato voi. Ebbene, e Google ha accettato. Guardate! C'era una volta un inventore di invenzioni E... In pratica il nome, io lo avete dato voi. Adesso, io non lo so, per quanto tempo Google lo chiamerà così, però non l'ho fatto. Non so se il comune gli ha dato un nome e qualcuno andrà lì a dire no, no, ma in effetti si chiama. Però, per ora, per ora, chi va su Google Map troverà Parco Via del Cittadino, così come avete deciso voi che si chiami. In pratica, il nome lo avete inventato voi. Mua!